Applicare due mani di Genius Special di colore bianco, idropittura vellutata, utilizzata in questo caso come valido primer per il caravaggio. Diluire opportunamente i Genius Special ed applicare due mani, tra una mano e l'altra, attendere circa 4-5 ore. Stendere un primo strato di caravaggio con apposita spatola caravaggio professional in plastica. Lasciare essiccare per circa 6-8 ore. Applicare un secondo strato di caravaggio con la spatola trasparente e subito dopo spatolare in svariate direzioni. Proseguire l'operazione per tutto il resto della parete. Grazie a tutti. Grazie a tutti.